Sì Andata, ok Prego, puoi entrare Insomma Ok Da cosa giochi? PC, play? Non lo so Giochi da play, ottimo Insomma No Aspetta, ho diviso Nella capocchiata Ok Ottimo, allora Aspetta Allora Mi senti? Mi senti? Ciao 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 Questa Si dice Mariano Pronto Questa partita Beh Di marito Leder che se poi mi mette a me facciamo win facile Perché sto a livello Sto a livello 12 Partita Ehm Questa parte Di marito Di marito No Di marito Ehm Poe Di marito ma andiamo non ti garantisco vittoria non so se mi mette venire a me perché la faccia cinque minuti fa ma tutti i batti in partita l'avete quello di castino non è solo io non trovo il botte non è possibile questo fatto insomma adesso non ho state è un passabile che li troviamo perché a livello sessantata alcuni passano strano però tutti gli altri avendiamo come viene un po niente dai un po un po un po che da che se sono giochi io gioco dalla play se non potete mandare richiesta insomma abbiamo quasi niente da questo fenomeno io ci sono riusciti in una casa o la metra guarda non posso fare molto aspetto a uno di vita più 50 di scudo però lui aveva il tattico io avevo una mitraglia tra le ha fatto tutti i 19 e 20 nuova roma 50 di sito a casa trovato trova si sta a maletta 1 data ma vuoi morire vabbè col tattico insomma soprattutto se finisce i corti fai bene infatti verificato possiamo andare non 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 insomma da lontano in edshot 41 e io mi metto i bandaloni verde con la maglia bianca sì possiamo andiamo di nuovo il posto deve far stare d'acqua da vicino al lago ma do infatti ma vedendo sulla gente scendali ma lo sapeva evitare molto più veloce modo dove dire l'impastazione e non la troverò mai facciamo così perché c'è qua la mia rabbia perché ci sono vicino autorità cos'è sto corso perché si è sceso l'autorità insomma tu no sto l'autorizzazione vabbè la visuale ma fa cacare aiuto esatto ma io così non riesco a capire trittual c'è uno davanti a me venga qua bimberto morto uno vabbè li vuoi andare a piccone dai oh bimberto è morto a piccone che sta succedendo? ho fatto un botto di danno a uno ed è morto di picco ok ce n'è uno da me dai che è questo l'impostazione non è qua non posso dire a me domani chiede al mio amico palito è tutto a nanna domani insomma ce n'è uno da me ma io ho una mitragliata con lo stesso mi fai prendere almeno la chest che sta là in mezzo al campo si si vieni guarda qui quello lo vuoi tattico verde arrivo in 40 secondi no buggetti vogliono sono data ma guarda all'amico adesso colpito mezza volta morto nonché stai vedendo non ho qua insomma lo so che ne stavano là stai vedendo con altra gente ok la mette secondo te ora li vado là di tattico il cornuto camminavo tutto e fare a me aspetta dove sta nessuno è una bella donna ok ok a posto sono morto ma dove dove insomma sono morto io non muoio mai godo però si è morto sono morti oh sentino a me c'è non sta nessuno dopo no 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 quattro secondi no 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 la cacca che diventa insomma robot gli ho tolto 45.000 di danno gli ho tolto vabbè erano in lì e dopo lecidi valami che se devi ma cosa stanno facendo qua chi fa chi fa ma chi fa ma questi da che si se non giocano non lo so questo balletto ma si sono insomma si sono sette eh ma si giocavo nella otto e non c'è questo ma infatti non c'erano queste cose una si sono molto vecchia come hai fatto una cosa che mi hai fatto a trovare il mio canale cioè la mia live come hai fatto a trovare tecidano suggeriti tecidano suggeriti no come ho fatto sono andato su fortretti canali live ho scritto cercata di italiano ho sceso e ho trovato la tua live l'entrata ma riuscivo a fare la cosa della porta veloce però ho riavviato la piazza no forse no perché prima di te è arrivato un altro ragazzo voleva giocare però non non la play capì non ho potuto rispondere cioè gli ho risposto quando lui era già non è andato via ah forse non si era followato e non ha ritrovato la live e non sapeva il nome boh ma non so questa è la galaxy cioè la galaxy quello no quella ma ok andiamo al lago vai scendi 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 la galaxy maronna non so non so qua qual è che sta dentro il mio della galaxy femmina chi vengono la galaxy ma c'è già un sacco di tempo fa tipo l'anno scorso non so il genere no ma devono fare un altro torneo dove mettono la galaxy femmina chi vengono si prende la galaxy femmina è solo però questo qua si sono da telefono insomma questo torneo è da telefono e deve avere il 5 F A che io non è che accanto ce l'avevo però non riesco più a farlo su questa accanto è là che sto fregato perché noi torni se ne vanno a cacarello ma la cacarella proprio se deve dire da me ho uno scildino a posto sei full ok io ho le le splash vieni al palazzone così mi aiuta all'istare che fa oppure io due splash ok allora al momento arrivo mi ero pagato nella porta però mi sono detto che si viaggiare che si viaggiare non me li dà gli scildini non me li dà oh persone da me ma vabbè mamma cioè io scoppo il gente da te si mamma non lo so ho due curabombe tre scildini cosa vuoi quindi cazzola e ce l'ho anch'io duro bomb e non mi analizzarono no aspetta un apposto da una persona allora fa una cosa si sento pure io sento passi ma sta qua è la sorella è la sorella quelle splash si ora ce le facciamo vai 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 dai dai voglio pushare dai quando si gioca con me si puscia con la merce e prendo io prendo pure io questo vai quante curabia ora si può pushare quando si gioca con me ok ma le macchine che fine hanno fatto le macchine le macchine perché cosa avevano detto che dovevano aggiungere ah si ma quella è una serenità rete ma tutte le devono aggiungerle ma questo è diventato impossibile farmare per loro e ma anche io ormai non mi tobo non esistono più su questo gioco le macchine si si infami hanno praticamente tolto che fai più materiale col perno il materiale non ti mi pare tanto non che te ne dà oh ora mi spara e adesso mi metto io a sparare mmm cosa succede ma da dove davanti boh ma fa che ne giro ce l'hai davanti no te che mi metti i mori io vado a possare ma ti spacca con la colletta o bimba merda ma guardate i botti che è oh mi metti oh fuori insomma è tua sorella è tua sorella è sì 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 aiutami la sorella di fatto è ok grazie grazie che fa lega ah oh mi stanno sparando mi hanno sparato schicolini mi hanno sparato da dove davanti 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 ma guardano col botte che si è insomma che è mi hanno sparato il botto che è il botto è il botto e lui capire ok si è inutiti poshò poshò questa ha messo a terra non trovi è morto ma qua sono insomma e me ne 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 no no non aveva niente questo boss però stiamo trovando tutti i botti per l'altra partita no non tanto botti non tanto però più possibili in classe per me voglio persone forti o petta e dammi in attimo si è lasciato ho sentito una volta il solto buono che ti fa come se stessi salva il mondo ma faccio re la notte senti la canzone ai sogni e botto ecco perché forse ci hanno visto comunque grazie per il pollo ciao ciao sto bene grazie per il pollo ma quanto l'altra stacqua ha comunque le si chiamano e ma vedrò se voglio veramente notte come si chiama se quando una persona è specialmente a botto è un botto a botto lo sai come si chiama bottone questi sono dei bottoni e non mi scazzata io no vai le splash vai vieni qua sono qua le splash vieni 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 vai 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 c'è dove ci abbiamo sotto a dalla ho detto bella fermo 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 che appena stilato un botto perché questo è chiaro ma devo farmare non ammazza non è mazzo e c'era una massa ce l'abbiamo tutto il lavoro che io tocca massa preoccupare parma parma ma che ne frega di nascendermi la non ti preoccupare non ti preoccupare non ti preoccupare solo non lo so però poi c'è ora può gioco un gioco crescono allora 25 quindi sono le 25 43 che ne sono le 25 43 sono le 23 50 andiamo a pushare andiamo a picciare o 400 di marcia a marcia io vado ancora girando con l'attacco come cazzo abbiamo albera mente a che poi ho ancora il pompa bianco quale tattico colorano il pompa pressione del bianco ma non si chiama perché si chiama pensa a cazzo di cano quello che fa cacare il piccione si infatti vuole intendere quella carica scemo tutt'anti cacca aspetta un attimo ma stanno personal agio è la giolangelo quanto amo la giolangelo la stanno persone in colonia ma non le vede ma guarda dove sono adesso saperemo mi serve un bel cerco sua sorella il piccione ma cosa no no allora allora io stavo io stavo allora stavo in una casa non stavano finestre non stava niente io stavo aprendo una cesta vede qua non c'è niente effettivamente un colpo è arrivato al muro ed è passato e ha preso un altro muro ma stiamo cercando quando un altro un po le figlione ma ciao sorella morta tipo un po di canta ma ancora cazzo che fa la sorella di panno sta facendo il capone questo eeeh madonna oh baccavi perchè stando spara no qui non è morta ok va fai del ritorno che vuoi sapere stando da eh guarda che coglione è morto da mamma ostacolo è morta da mamma ma quando stanno è morta da mamma a riuscire è mortaέ oh è morta da mamma a riuscire l'ultimo è morta da mamma a riuscire fai uno bordo giù st è natale è natale è natale vabbè dai io sono arrivando i miei amici e si credono forte positino c'è un tk tu 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 tu